vi mostro ricarte di san valentino che ho stampato e presto farò un junk e vi farò vedere questa è la copertina questo è l'interno diciamo della copertina la pagina dell'interno della copertina e queste sono le pagine interne le pagine sono stampate sul fronte e retro, sul retro ho messo una pagina neutra dove uno può mettere poi abbellimenti e queste sono pagine che non rendano tanto i colori dal video sicuramente se prendete questo digital kit vedrete come sono belle ok 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 qui ci saranno tante pagine che ho fatto con il caffè anche quelle quali vedrete questi sono gli abbellimenti che ho stampato sul cartoncino dovrò tutte ritagliarli questi sono altri abbellimenti e anche questi sono altri abbellimenti vedrete poi chiaramente vedrete poi questo lavoro finito dove poi inserirò anche tante cose extra come le lavorazioni con lo stencil dei disegni fatti a mano e anche altri abbellimenti un abbraccio a tutti ci vediamo al prossimo video ricordo sempre di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere vi ringrazio moltissimo ciao